ciao a tutti e benvenuti su magis of lotus allora in questa puntata parliamo di altri 10 investimenti nella reserve list questa volta non sono né chip né i 10 migliori investimenti in assoluto ma sono nella fase media quindi parliamo di carte che stanno massimo a 10 euro e partono da 3 4 5 euro allora prima di iniziare vi ricordiamo di lasciare un like di iscrivervi al canale di commentare con i vostri investimenti e la vostra opinione su questo video allora sono lieto di annunciarvi che da questa settimana i video non saranno più 14 quindi due al giorno ma 16 siamo riusciti ad aggiungere due slot che sono le 4 e mezza di lunedì e giovedì uscirà un video di circa 5 minuti e vi ringraziamo veramente tanto per il supporto questo ci ha spinto ad aggiungere un altro video due volte a settimana è un grande onere anche un grande onore e essere a disposizione di una community come come la nostra che è veramente sana e molto molto propositiva allora direi di iniziare subito con la prima carta e questa è una carta veramente veramente spicy e conoscenza ancestrale una carta di weather light di quindi cavalcavento e costa 2 un incantesimo con cumulative upkeep alla cumulative upkeep consiste nel mettere un segnalino age quindi età sulla carta ogni upkeep e pagare un mana in questo caso colorless per ogni segnalino presente sulla carta quando entra in gioco guardiamo le prime 10 carte nel nostro primorio e esitiamo un qualsiasi numero di esse e il resto la mettiamo nell'ordine che vogliamo quando questo incantesimo lascia il gioco shuffliamo il deck quindi mescoliamo il deck carta super interessante perché ci permette di avere un soprattutto se giochiamo combo una manipolazione della cima del mazzo molto importante in più andiamo a togliere delle carte che non ci servono dal mazzo quindi il mazzo non sarà più di parliamo di commander in questo caso non sarà più magari di 90 85 carte ma diventerà subito di 80 85 carte con in cima una buona parte delle carte che ci servono in più il costo negativo da pagare non è alto perché il turno dopo pagheremo solo un colorless che non è così impattante il turno ancora dopo due colorless e questo potrebbe essere un po un problema però magari avremo già finito concluso parte la nostra strategia carta super interessante valore è stabile sui 6 7 euro quindi se volete investire soldi e target giusto disegno stupendo di colin mcneill che non l'ho mai detto però ho fatto veramente un bel disegno la passiamo alla seconda carta di questa di questo video che è free wishes 3 desideri è classico della dell'iconologia dei digine e allora anche in questo caso disegno carino e allora è una carta costo 3 che è simile a expressive interation quindi una carta molto attuale esitiamo le prime tre carte il nostro grimorio ma faccia in giù quindi le possiamo guardare solo noi e fino al nostro prossimo turno possiamo giocare con le carte possiamo giocare play quindi anche le terre molto interessante all'inizio del nostro prossimo upkeep mettiamo quelle che sono rimaste esiliate nel cimitero quindi non rimangono esiliate e anche questo è molto importante la carta potenziale un istantaneo anche se questo ovviamente è un lato positivo ma non c'è troppo sulla carta e ci permette di fare del vantaggio possiamo giocarla anche in strategie che in cui vogliamo mettere delle carte cimitero perché questa non l'esilia e quindi è una carta interessante e di visioni visioni a un po di carte in reserve list e come potete vedere comunque sta sotto i 5 euro a tante coppie sotto i 5 euro quindi anche questa carta interessante da scrutare poi del colore è più forte di comandare in generale quindi ha sicuramente più potenzialità allora questa è una carta un po al limite nel senso che siamo lì lì e però può essere interessante costa un colorless triangle of war sempre divisioni e tappiamo 2 la sacrifichiamo è una creatura che controlliamo fighta contro una creatura dell'opponente molto semplice perché può essere interessante perché ci sono dei mazzi che vogliono i permanenti artefatti perché hanno delle sinergie con essi quindi o delle creature si pompano pensiamo ad akiri no un comandante molto famoso in commander con partner e osailas che si gioca appunto con akiri e quindi può essere performante avere questo tipo di carta altra cosa magari mazzi a base blu verde artefatti che magari hanno poche carte poche removal questa non è una removal però magari sinergizza bene con il nostro piano per il prezzo che è un buon investimento siamo su 2 euro ci sono diverse copie 2 3 euro quindi anche questo anche questo disegno mi piace mi piacciono tutti sono innamorato di disegni magic e passiamo la storia la falconiera e come dice il nome è brutto da dire ma aveva non voglio usare questi diciamo che potenzia i beard gli uccelli volevo dire un'altra parola ma scagliamo nel nel poco elegante e vestito così non posso permetterlo allora troviamo questa carta sui 3 euro e praticamente da 1 più 1 a tutti gli uccelli che controlliamo e in realtà per come wordata pompa tutti gli uccelli in gioco però il nostro bersaglio difficilmente avrà uno di essi quindi pomperà solo i nostri e tappando 2 l'uccello bersaglio a bending che è un'abilità un po' particolare e le copie disponibili sono solo 352 quindi molto poche e di origini quindi un'espansione ritenuta brutta da tutti che però ha tantissime rare reserved quindi e allora se in futuro usciranno degli altri beard questa carta salirà quindi è una carta su cui si può puntare non costa tanto e reserve list poche copie secondo me è proprio l'investimento perfetto il prototipo dell'investimento perfetto non voglio dire che farete i milioni con questa carta anche perché dopo 20 anni sta a 3 euro quindi però se voi guardate le copie sono veramente poche e il bird come tipologia di creatura non è così raro passiamo una carta un po più consistente ed è carnival of souls quindi festa delle anime è una carta di destino di urza costa 2 incantesimo e dice quando una creatura entra in gioco noi perdiamo un punto vita e aggiungiamo un nero tra l'altro non dice solo le nostre ma anche quelle dell'avversario questo in teoria incide però nei mazzi in cui si è giocata questa carta incide meno perché è una carta molto proattiva nel senso che la giochiamo per la nostra strategia e può scombare perché comunque con una combo di creature che entrano e escono entrano e escono ci dà del mana extra anche se ci fa perdere le vite quindi è una carta con potenziale io ve l'ho messa in questa critica anche se è un po' al limite però è una carta su cui investirei come vedete ha avuto un picco e poi adesso è riscesa ma adesso sta risalendo quindi potrebbe essere il momento giusto in cui comprare una o due copie e passiamo ai crepacci glaciali un incantesimo rosso costo 3 di ice age che sta sui 5 6 euro e dice costa 3 appunto e dice sacrificiamo una snow mountain quindi una montagna innevata e preveniamo tutto il combat damage allora l'effetto mi sembra forte perché se noi giochiamo un mazzo per esempio super friend pieno di place walker a base rossa classico big red noi vogliamo una carta così possiamo volerla perché comunque li proteggiamo i nostri place walker perdendo una terra e in più possiamo se giochiamo combo per esempio quindi ci servono turni contro i mazzi aggressivi abbiamo anche questo effetto la carta mi sembra molto molto interessante come vedete sta avendo un picco una piccola salita ed ha ancora un prezzo accettabile quindi ci sta investirci mi piace poi il disegno molto questo non è bello ma è così spicy a ziriran il mio amico ziriran ziriran dell'artiglio è lui è lui e questa è una carta che veramente mi stuzzica parecchio ci volevo anche montare commander sopra praticamente al posto di giocare da retti c'è una lista che ho provato che gioca lui sta intorno ai 10 euro è un pochino meno ma si sale in fretta con le reserve list anche perché come potete vedere solo 338 copie quindi molto molto poche allora costa 5 è un 3-4 quindi almeno ha il 4 di costituzione che lo fa uscire dai botti a 3 e tappando 3 tappandolo cerchiamo un drago un permanente drago quindi non una creatura drago anche se per adesso non conta così tanto questa cosa e la mettiamo in campo mischiamo il grimorio questo drago acquisisce rapidità e lo esiliamo all'inizio della end step secondo me è molto carina come carta perché la possiamo giocare sia in alcuni mazzi dentro che come comandante come comandante essendo solo rosso è un pochino limitato però secondo me ci può anche stare tra l'altro abbinato agli schinieri dei fulmini è veramente top perché tutti i turni cercheremo un nostro drago e secondo me vinciamo in fretta allora come investimento ci può stare perché è una carta relativamente iconica perché ci sono i draghi una carta che piace e quindi può essere un investimento il prezzo è al limite di per rientrare in questa classifica però altare d'osso quindi altar of bone costa un bianco e un verde e una sorcery dice sacrifichiamo come costa adizionare una creatura cerchiamo una carta creatura del mazzo e la prendiamo in mano allora ci sono altre carte che fanno questo effetto meglio perché non richiedono il sacrificio di una creatura o comunque la mettono in campo eccetera però in commander per esempio se giochiamo toolbox noi vogliamo più carte che facciano questo effetto e questa è una di s in reserved il prezzo è sotto i 10 euro quindi ancora accettabile veramente veramente una bella carta questa quindi quindi ci si può investire veramente il disegno è stupendo cioè io ho delle copie di questa carta sono veramente belle veramente stupende allora siamo quasi alla fine di questa classifica siamo alla alla nona carta ed è green feast fiero pasto carta super interessante all'inizio del nostro upkeep ci fa un danno e voi direte eh perché ci deve fare un danno? perché quando una creatura va nel grimorio del giocatore dal gioco noi guadiamo vite pari al tauness quindi è una carta che ci è vero che ci toglie una vita ma in un mazzo con tante removal ce le dà quindi può essere interessante non è la prima su cui investirei sono sincero però tanti ci hanno investito perché come potete vedere anche questa sta intorno ai 10 euro ha solo 400 copie sempre di mirage quindi è disegno stupendo quindi tutte le carte che hanno un disegno stupendo hanno quel qui di più per investirci e qua abbiamo epurazioni di firexa costa 4 mana e dice paga 3 vite per ogni target distruggiamo qualsiasi numero di target creature cosa vuol dire? noi giochiamo noi paghiamo 4 mana e paghiamo 6 vite per distruggere 2 creature e voi mi direte che schifo e allora nì nel senso che potrebbero uscire in futuro qualcosa c'è già però potrebbe uscire in futuro un archetipo di commander sul pagare le vite perché ci sarà il comandante che quando paghiamo le vite fa qualcosa ed in più in realtà non è che faccia così schifo perché in un mazzo che ha le creature noi vogliamo spaccare solo quelle dell'opponent e non è una cosa facilissima spaccare più creature solo dell'opponent e questa carta anche pagando 9 vite ci permette di fare vratta solo dalla parte dell'avversario a costo 4 mana quindi non è per niente a sottovalutare ecco invece su questa ci farei un pensierino cioè questa la prenderei abbastanza in fretta allora siamo giunti alla conclusione di questo ennesimo video sulla reserve list per un pochino non farò classifiche sugli investimenti in reserve list ma magari farò un video di considerazioni su lo spostamento dei prezzi delle carte in reserve list oggi in mente qualcosa devo solo buttarla giù e capire come farlo per farlo venire decente e come sempre vi ringraziamo per il supporto se sei arrivato fino a qui metti un like e iscriviti al canale e dalla prossima ciao